Presentata oggi a Milano la nuova edizione del Festival della Comunicazione che si terrà a Camogli in Liguria a settembre. Ce ne parla Vera Paggi. 20.000 visitatori per la prima edizione e il Festival della Comunicazione a lunga. Quattro giorni dal 10 al 13 settembre mescolati nelle strade di Camogli, 90 ospiti racconteranno il linguaggio. L'appuntamento presentato a Milano nella sede della RAI che è media partner della manifestazione. Quest'anno avremo delle sorprese perché sono alcuni giovanissimi che sono dei leader, dei youtuber o dei giovanissimi blogger che racconteranno e coinvolgeranno il pubblico in una serie di eventi. Il linguaggio della politica, dell'economia, delle arti e del digitale, tanti i modi di comunicare come quello della televisione. Il tema è affascinante, quello del linguaggio declinato in tantissime sfumature e quindi credo che sarà di grande interesse per i nostri ascoltatori, per la radio e utenti televisivi per quanto riguarda la televisione, sentire e vedere cosa succede. Dall'Adi Piero Angela alla Vivi Violi, docente di semiotica all'Università di Bologna, la Quattro Giorni a Camogli sarà anche occasione per frequentare gli ospiti oltre le pareti virtuali delle conferenze.